C'è anche la Calabria tra le cinque realtà territoriali maggiormente spiate dal grande orecchio della giustizia in Italia. Dalla nota scientifica dell'Istituto Demoscopica che ha analizzato intercettazioni e costi nei distretti italiani nel quinquennio 2009-2013, sono oltre 450.000 le intercettazioni telefoniche autorizzate che riguardano la nostra regione, insieme a Lombardia, Campania, Sicilia e Lazio, per un costo complessivo pari a 1.358 milioni di euro. Oltre 4.000 le utenze controllate per indagini relative a reati di terrorismo internazionale e interno. Le intercettazioni messe in campo dallo Stato per contrastare crimine organizzato e malcostume rappresentano per il Presidente dell'Istituto Demoscopica Raffaele Rio uno strumento insostituibile di indagine per combattere un fenomeno, l'andrangheta, il cui giro d'affari rappresenta circa il 9% del pillo italiano. Sono ben 9 su 26 i distretti più caldi dove si è concentrato il 70% del dato complessivo delle intercettazioni Napoli, Roma, Milano, Palermo, Torino, Firenze, Bologna, Catania e Reggio Calabria. Proprio nella città dello Stretto, le somme messe in campo per fronteggiare criminalità e malcostume sono pari a 171,2 milioni di euro, il 12,6% sull'ammontare complessivo delle spese. Lo sforzo economico delle procure italiane che hanno autorizzato intercettazioni telefoniche, ambientali e di altro tipo è pari a 1,4 miliardi di euro, costi che secondo il Presidente di Demoscopica Raffaele Rio sono significativamente elevati, pertanto sarebbe auspicabile accelerare l'attuazione normativa per ridurre le spese e andare incontro ai bilanci dei tribunali sempre più in rosso. Rossella Galati per la Cineus 24